Buongiorno a tutti, domani è il giorno di Juventus Inter, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A Team 2022-2023. Con noi il nostro allenatore Simone Inzaghi che è pronto per rispondere alle vostre domande. Cominciamo con la domanda di InterTV qui davanti a destra. Buongiorno mister, domani affrontate la Juventus in una gara che non ha bisogno di presentazione. Il derby d'Italia è un classico del calcio, che partita si aspetta e cosa servirà per portare a casa un risultato positivo? Chiaramente sappiamo la partita, cosa rappresenta il derby d'Italia, una partita molto sentita dalla nostra tifoseria, dalla nostra società. Sappiamo che troviamo un avversario in salute, che come l'Inter nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro, quindi sappiamo delle difficoltà della partita, troveremo una squadra in ripresa, uno stadio caldo, però noi andremo per fare la nostra partita con grandissima concentrazione. Buon pomeriggio mister, quanto c'è di vero secondo lei, quanto ci crede in questa teoria diffusa in questi giorni, secondo cui chi dovesse perdere domani avrebbe più di un piede fuori dalla lotta a Scudetto? Domani sappiamo che è una partita molto importante, sappiamo nello stesso momento che mancano 25 partite alla fine, fra una settimana ci sarà la sosta per il Mondiale, poi si tornerà con più di un giro a disposizione. Sappiamo dell'importanza della gara e sappiamo nello stesso tempo che mancano ancora 25 partite alla fine, però chiaramente domani è importantissima sia per l'Inter che per la Juventus. Sky Sport Buongiorno, ciao. Volevo chiedere se c'è una squadra domani che è favorita e poi se l'Inter farà qualcosa di diverso rispetto agli scontri diretti che ha giocato fin qui in campionato, perché in Europa le ha giocati anche bene, vedi col Barcellona, in campionato invece gli scontriati un po' li avete sofferti, se è vero? Assolutamente sì, quest'anno li abbiamo sofferti, l'ultimo che abbiamo affrontato è stato quello con la Roma, dove secondo me avevamo già dimostrato di essere ripresa, poi abbiamo fatto altri scontri con il Barcellona, con il Bayern importanti, con esiti diversi, sappiamo che chiaramente arrivano due squadre in salute che in campionato sono reduci da quattro vittorie, è una sconfitta e abbiamo avuto due percorsi diversi in Champions, però chiaramente rispettiamo la Juventus, sappiamo insomma la forza di questa squadra, ha avuto degli infortunati, ha dimostrato che ha fatto giocare altre squadre, hanno vinto ugualmente, hanno dimostrato di avere grossa qualità anche nei giovani, quindi abbiamo un grandissimo rispetto ma non paura. Nidiaset. Ciao Simone, volevo chiederti quanto ti dispiace giocare a una partita così importante ancora senza Lukaku e se hai un aggiornamento, rimani in Belgio, torna, cosa succederà nelle prossime settimane? Senza Lukaku, senza D'Ambrosio, bastoni da valutare perché stanotte aveva la febbre, quindi oggi non si è potuto allonare, adesso vedremo se portarlo già stasera o domani perché aveva ancora qualche linea di febbre, quindi è normale che un allenatore vuole avere tutte le proprie frecce, però sappiamo che giocando così tanto ci sono delle difficoltà ad organizzare le partite con tutti gli effettivi e quindi per quanto riguarda Lukaku ho avuto quel risentimento alla cicatrice, la prossima settimana rifarà un esame, però mentre l'altra volta avevo detto che avevo qualche speranza magari per l'ultima partita, penso di no, è normale, mi dispiace per il ragazzo perché in questi 60 giorni aveva lavorato tantissimo per esserci, per darci una mano in queste partite finali, in questo momento purtroppo non possiamo utilizzarlo, l'abbiamo utilizzato nelle prime tre di campionato, in Champions mai, in Champions i dieci minuti col vittoria finale e lo aspetteremo dopo la sosta perché sappiamo che ci potrà dare una grande mano. Rai Sport Salve, la Juve è la miglior difesa del campionato, cosa dovrà fare l'Inter davanti per provare a mettere in difficoltà? Chiaramente dovrà muoversi, dovrà avere mobilità perché è una squadra che ha ottimi difensori, che alterna le due fasi, ha dei momenti dove viene a prenderti forte, dei momenti dove scende di squadra, chiaramente abbiamo visto i dati, è la miglior difesa in Italia, quindi chiaramente dovremmo essere bravi a fare un buon possesso palla perché è una squadra che quando ha dei riferimenti precisi si difende molto bene di squadra. Gazzetta dello Sport Il mio pensiero sulla Juve, insomma, l'ho detto, hanno avuto dei problemi, ma la Juve ha una squadra 1, ha una squadra 2 molto forte, in più sta lanciando giovani a ripetizione, quindi oltre a essere una rosa lunghissima, chiaramente la più lunga della Serie A, ha dei giovani che stanno giocando molto molto bene, sono una grande risorsa per loro. Corriere dello Sport Ciao Simone, volevo chiederti, in questo momento l'Inter sta particolarmente bene, anche dal punto di vista atletico, è un rammarico il fatto che ci si debba fermare tra una settimana? Sarebbe stato meglio andare avanti ancora un po' per sfruttare questa onda? Beh, quello chiaramente è un'osservazione giusta, la squadra sta bene, però insomma, lo sapevamo, adesso mancano queste ultime tre partite da qua alla fine, abbiamo purtroppo qualche problemino ricorrente dall'inizio dell'anno con qualche giocatore importantissimo e adesso l'augurio è quello di finire al meglio queste tre partite e poi insomma ripresentarci il 4 di gennaio nel migliore dei modi con tutti i venti effettivi più tre portieri che non ho mai riuscito ad avere per tutto l'anno. Tutto Sport Sì, ciao Simone, l'Inter, non consideriamo Monaco perché comunque è una partita, tra virgolette, una quasi amichevole perché avrete tutti raggiunto gli obiettivi, continua ad avere questo problema dei gol subiti in trasferta e tu ne hai già parlato e volevo capire da te, come fa uno staff a gestire una cosa così strana perché ovviamente in casa non ne prendete, difendete benissimo, in trasferta ne prendete tanti quindi non penso che sia proprio, penso che sia quasi casuale o un problema magari più psicologico e volevo chiedere se magari da questo punto di vista una grande partita a Torino può anche sbloccare questo ultimo problema che penso avete come squadra. Senz'altro, hai parlato di Monaco, io del Monaco ho visto tantissime cose positive della trasferta a Monaco adesso non se ne è parlato poco, insomma abbiamo giocato contro il Bayern Monaco che penso che insieme al Manchester City sia la squadra più forte d'Europa e probabilmente c'è stato negato un rigore, c'è stata l'occasione di Lautaro e magari sbloccandola sarebbe andata in un modo diverso poi chiaramente tutte e due le squadre erano qualificate quindi si è parlato poco di quella partita perché per quanto riguarda i gol in trasferta chiaramente è un dato i dati vanno sempre guardati io insieme al mio staff li guardo attentamente c'è questa differenza che dobbiamo essere bravi a lavorare sui dettagli perché chiaramente la differenza di gol di San Siro rispetto a quelli che prendiamo fuori è notevole e per una squadra come la nostra non deve esserci. Corriere della Sera Buon pomeriggio Simone Ciao, buongiorno Si dice spesso che per un infortunato la prima partita da rientro è quella in cui spara tutto quindi volevo chiederti se domani giochi con Brozovic o se invece lascerà intatto il centrocampo nel senso con Cialanoglu regista fino alla sosta visto che sta funzionando benissimo. Per quanto riguarda Brozovic è giocatore importantissimo nella nostra economia in questi due giorni devo essere sincero che mi ha stupito per come ha lavorato perché non sono i 60 giorni di Lukaku ma sono quasi 40 quindi sono tanti giorni però in questi due giorni mi ha lavorato molto bene quindi non penso che parta dall'inizio però vedremo poi la partita come andrà avanti però sono contento perché è un giocatore importante che per noi è fondamentale nello stesso modo di Lukaku e anche lui è stato un'assenza di cui se ne è parlato poco fortunatamente grazie ai suoi compagni che hanno giocato benissimo al proprio posto che speriamo di poter utilizzare almeno in queste ultime partite da qui alla sosta. Sport Italia e poi chiudiamo con FC Inter 1908 Ciao Simone, come si evita il rischio psicologico di eccesso di confidenza che all'Inter spesso capita quando sta andando bene da un po' e peraltro ha di fronte una Juventus Allegri nelle grandi partite comunque riesce a invertire la rotta e la Juve che è uscita alla Champions ovviamente è più famelica potrebbe essere più famelica contro l'Inter. Assolutamente, sappiamo che troviamo una squadra che è uscita dalla Champions quindi sarà ancora più avvelenata ho grande stima per l'allenatore che ha perché è un allenatore che ha vinto che riesce sempre a tirare fuori il meglio dalle proprie squadre quindi noi dovremo fare una grandissima gara di corsa aggressività, determinazione e dovremo avere tantissima concentrazione e soprattutto grande personalità perché troveremo uno stadio, un pubblico molto molto caldo che cercherà di trascinare la propria squadra. Prego Buon pomeriggio mister Non è la prima volta che succede Arrigo Sacchi, nonostante il passaggio del turno in Champions ha criticato la mentalità dell'Inter dicendo che si affida troppo al contropiede Volevo chiederle il suo pensiero in merito se voleva in qualche modo rispondere No, io non rispondo ho risposto al suo collega per quanto riguarda la partita di Monaco che ho avuto ottime indicazioni perché ho avuto giocatori giovani che hanno giocato contro una squadra fortissima e ho avuto giocatori che non giocavano da tempo che mi hanno dato ottime risposte penso ad Armian, terzo di difesa che ha fatto una grande gara a Gagliardini che non giocava dalla terza di campionato titolare contro la Lazio quindi della partita di Monaco mi dispiace per il risultato però se tra virgolette non è pesato perché siamo stati talmente bravi di raggiungere una qualificazione con una giornata d'anticipo mi sono portato via cose molto positive da Monaco grazie a tutti grazie a tutti